Dove diavolo eravamo? Ah sì, ci eravamo persi come sempre. Ah, il sezionamento di un cervello. Ho capito. Qua di sicuro ci sarà da menare le mani. Allora, bella la mappa che non si capisce mai una fava. Ah, dobbiamo andare lì, dove c'è il giallo, non lo so. Siamo qua, procediamo. Abbiamo preso l'arma degli dei. Bisogna vedere che è tipo un cecchino, è tipo l'arma di Blame. Va bene. Indaghiamo sull'oggetto del potere illuminato per radiografie. Va bene. Ah, ma io che armi ho? Il pompa è questo, va bene. La voglio provare, sta arma qua, in realtà. Oh, chi è? No. Oddio. Va bene. Va bene, ma sciotta. Ma sciotta. Va bene. Va bene. Vabbè. A posto? Curiamoci. Ma sciotta sta arma. Ma sei matto. Però prima di andare dalla tizia... Io volevo capire se potevo andare... Mi sa che qua è tutto fottuto. Dove siamo? Ma ce l'ho già stato qua? Sì, ma qua ce l'ho arrivato. Aspetta. No, da qua ce l'ho arrivato. Ma com'è possibile che sia arrivato da qua? Qua sono sicuro. Vai di qua. Ma io devo andare da tutt'altra parte. Ma come ci arrivo? Sai che c'è? Prendiamo l'ascensore. Buonanotte, va. Trench ha detto che il suo team sa tutti i segreti dei segreti. Marshall, soprattutto. Da qualche parte arriveremo. Bella sta mappa, oh. Ah. Hmm. Buongiorno. Marshall is waiting for you in the luck lab. Just down the hall. Sì. Fammi prima andare in bagno che mi devo rifare il trucco, va? Come sempre, controllino al bagno. Tattico. Eh. Oh, Levi. Vedi che c'è sempre? Paperella di gomma scoperta nell'abitazione della gente tal dei tali dopo che la sua giovane figlia si era lamentata di essere seguita dalla propria paperella di gomma. Secondo la gente tal dei tali, inizialmente il caso è stato ignorato, ritenendo solo il frutto dell'immaginazione di una bambina finché non è iniziato a sentire starnazzare di notte. Si è scoperto che la gente tal dei tali portava a casa alcuni noti materiali paranaturali trafugandoli illegalmente. Ah. Strane situazioni. Ah. Va bene, signorina. Qua di sicuro succede la roba. Ma che bei posti, oh. Ma scusate, ma io ero lì sotto prima. Perché non c'è stato un Cristo che mi ha aiutato mentre mi scendeva addosso il mondo? Ah, come sempre... Eh, non mi piace. Privacy. Ah. Attiva un po'. Molto bene. Ragazzoni. Ah. Siete qua. A non fare niente. Bravissimi. Cos'è? Che cavolo è? Vabbè, io me lo prendo sto fiore qua. Ma che fate? Ma? Sono oggetti paragnosti questo? Ah, la tizia con una bellissima faccia. Ho capito. Non lo so. Allora... Ma? Buongiorno. Buongiorno. Ma chi stai guardando? Comunque è in cinema, eh. Ma... eccoci qua ma ci siamo appena stati ah ah ci chiudi dentro ma va ma chi ciao Maggi cos'è già sold out il pre-sail ma di che cosa stai parlando Maggi che è stato ah di Tyler se ne sono già ciucciati tutti qua mi sa che bisogna fare un po' bisogna fare un po' di di backtracking eh madonna a chi sto sparando a chi stanno sparando oh non mi ricordo più i tasti dai buttati e vai togliti togliti oh la ma chi stanno sparando giù la testa giù la testa giù la testa ma è scappato molto utile questo ma che si è nascosto questo non eccoci qua boom no no olè no Ok Ah perché non puoi scrivere stronzo In chat a Maggi Godo Fammi vedere che qua c'è la roba Beh Devi scriverti alla Mailing list Se vuoi pre-sell E' così che funziona Non c'è niente eccolo qua Oh Cos'è questo? Comunque è shotta sta arma Altro che cambiarla Ok 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 Possiamo parlare adesso? Possiamo avere una conversazione Come tra persone adulte? Quanto pare no Vieni qua Zium Ah Aia Madonna Madonna Fammi curare Sì ma mi ha shottato Sì Anche io ce l'ho eh Ah Che bastardo Cos'è? 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 Ma che cavolo mi è partito Adesso Ma che cavolo mi è partito adesso? Vai qua Via via Ma c'ho uno di vita Devo fare la mossa Giramento allozzano Sì Sì No 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 Via 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 Non c'ho più energia Sono vivo come No Dai Ma shottato Come? Ho sopravvissuto a tutto Me li sono trovati in faccia Rip Da dove? No Ma va Ma poi com'è che mi Cioè Non capisco come sia il sistema Eccoli lì Devo rifarmi tutto Dai Ciao Reserit Tra l'altro Come stai? Dai E mo? E mo? Ma? E sti tizi? Ah ma c'ho C'ho gli aiutanti adesso Ma com'è possibile? Ma che ho sparato? Aia Via fammi curare Fammi curare Via 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 Eeeh Ma è tostissimo Dove sei? Devo curarmi Dai Dai Ma che casino Via 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 No Non so dov'è Non so dov'è Mi sta Mi sta Chasando No Ho finito la vita No Ucciso L'ho ucciso E' giù Sono pure Pure sopravvissuto L'eroe E' lui il vero eroe Easy Ok Ok Rimettiamo un po' in ordine Va E' il tizio Sparito Sedato Ok 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 Ci sono diverse porte Abbiamo bisogno di potenziare un po' lo scudo Secondo me Allora Collezionabili Tac Il deviato L'ho visto che era bello deviato Può usare la telecinese come scudo Vabbè E' solo un nemico molto forte Non c'era bisogno che me lo dicesse lui Me ne sono accorto I ragazzi Soglia Va bene Soluzione Requisisce Una lenta Presentazione amichevole Riguardo argomenti paranaturali Con questo in mente Permettetemi di introdurre i ragazzi Soglia Uno spettacolo televisivo Quello che vediamo Beh insomma Divertente E' l'ultima cosa Che io direi Dovrebbe essere Quella roba lì I ragazzi Soglia Ma va Una delle robe più inquietanti Che mi sia mai capitato Di vedere Nel mondo dei videogiochi Oh Quella sembrava una mod Golosa eh Fammi vedere Eccolo qua Eccellente Fammi vedere se c'è altra roba Sai che Scudo E' vero Io non l'uso mai Non uso mai L'evasione E sono sciocco E dovrei farlo La radio Ok Ok Ma possiamo andare In tanti posti diversi Ma possiamo andare Qui Siamo proprio sicuri Di voler andare qui Ehi Questi spazi grandi E' sempre Brutto Brutto Dai Sembra i bei posti Poi cosa sono Ste robe qua Da deviati Sembra Che stessero Gi Sembra L'ufficio di Pornhub Sembra Ma che è sta roba Male 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 Qua doveva esserci Un save Ma dove sono E' la rock academy Esatto Fammi vedere Che c'è Qua Come testa Sono stati posizionati Dei set televisivi Di diversi luoghi In giro per il mondo All'interno di stanze Decorate in maniera identica L'ipotesi era che Alterando in maniera identica La decorazione di ogni stanza E successivamente Cambiando il canale In ogni stanza Tranne in una La televisione impostata Sul canale diverso Avrebbe allineato Spontaneamente La frequenza Per passare Alla stessa Delle due Controparti Sincronizzate Sembrato un fallimento Finchè non è stato osservato Che gli agenti Responsabili Della preparazione Delle stanze Stavano provando Lo stesso tumulto emotivo Di un membro del team Clinicamente depresso Ah Insomma Bell'esperimento Qua? Non c'è niente Che spioni Mirror test Questi Vediamo un po' Sì Livello d'accesso 6 Qua Ci arriviamo Molto dopo Siamo a livello 3 Qui siamo circa A metà del gioco Io devo capì Come si faccia D'arrivare là Ecco Tipo qua Come ci arrivo Che è tutto fottuto Guarda qua Eccolo qua L'eroe Non se n'era andato Qua? Ah E' qua dove ci porti Scusami Sì? Dove diavolo siamo? E' stato d'aiuto Partene Va bene Buongiorno Non so assolutamente dove mi trovo In un cavolo di ufficio Delle palle Insomma Tutta l'or Rituali Disordino Disordino Che sta descrivendo Uno streamer Mentre certe manifestazioni Di queste condizioni Sono semplicemente Risultato di malattie mentali Certe volte Gli individui Stanno semplicemente Eseguendo Chiamati rituali Il livello dei rituali Può variare Numerologia Logica Dei sogni Perdita Formule verbali Azioni ripetute Legami casuali Causali Sono solo alcune Delle procedure coinvolte Mentre la maggior parte Delle persone Si affida a piccoli rituali Ogni giorno Voi avete dei rituali Ragazzi Tipo Che ne so Accendere Spegnere la luce Due volte Prima di entrare In una stanza Hai capito? Gli individui Che riconoscono Un significato Più grande Dietro Queste azioni Compulsive Sono intrinsecamente Consce Del mondo Paranaturale Ma scusa Mi hai creato Un intero piano Per farmi leggere Sta roba qua Ah Non posso Scendere da qua Indistruttibili Belli riflessi Però eh Qua siamo proprio Raytracing 2024 Ti faccio Ah Beh può essere Raytracing Può anche essere Un buon modo Per allontanare Il cancro Della prostata Vigila così Però E dopo come vivi La tua mattinata Non ti senti Un po' Spompato Davvero Hanno messo Un intero piano Solamente Per farmi Leggere Quella roba lì Ah Qua c'è Ah Prima di tutto Ehm No Non mi interessa Nulla In realtà È qua che devo Fammi volare Un po' Di queste robe qua Tanto ormai Anche quelle Di livello 2 Le posso Fai mettere questo Come si faceva Smontare Smonto tutto Tutto ciò che è livello 2 Ormai lo posso Smontare tranquillamente Anche livello 1 Tengo solo livello 3 No Ecco Ma che me frega Io guardo Tu luglio tutti i giorni La tua vita è migliorata Vedi Anche qua Smonta 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 Tutta Sta robaccia Sta robaccia Buono Però io non voglio Andare di qua Cioè non voglio Andare di qua Io devo andare Dalla posta Nella direzione Diametralmente opposta Come fa? Posso tornare indietro? Scelta Fammi vedere C'è l'eleveto Ribagni Scusami eh Fammi tornare indietro Che tizia Ok siamo di nuovo qua Oh vado di qua C'è per andare di qua Ma perché? Chi è? E dai Oh vado di qua L'ho mancato come? Dai Cosa c'ho addosso? Cosa c'ho addosso? Ah c'è il cattivo signore Questi qua li odio No No E dai Ma perché? Sti bruttoni Oh Per andare tipo di qua E benvenuti nella Tomblu waiting room Ragazzi Dove c'è? Dove c'è il cattivo signore? Dove c'è il cattivo signore? Dove c'è il cattivo signore? Salve Ah Siamo proprio nella Tomblu waiting room Ragazzi Eh sì Ho capito Qui Bella chiusa Ah Vediamo un po' Ai 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 Schiacciare le tasti a caso Oh Che devo fa' Su Su E' un'enigma? Che devo fa' Ehm Sì ma non mi permetteva di riempirlo Ah Forse così Beh Classified C'è proprio quel simbolo lì Devo farlo così Col robo sopra Va bene Vabbè Datemi una sfida Tu luglio 8 miliardi di Q Big brain Ehm 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 la Tomblu Waiting Room E dove siamo? Dai! L'abilità sequestro? E qual è l'abilità sequestro adesso? Ma in che senso è l'abilità sequestro? Che? Sì, ma qual è l'abilità sequestro, bro? Oh, oh, oh! Che? Ah! Combattono per me? Vabbè, ma è fighissimo! Mi posso impossessare di loro? Vabbè, ma sto nel C-Long! Vai, bro! Andate! Ah, di shotta! C'è pure il controllo mentale! Spara, bro! Vai, vai! Chi? Andate! Così posso avere il mio personale... ...esercito! No, 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 no! Ehi, ehi! Amico! E si refullano, tra l'altro, dopo che li ho impossessati! Bravo! Ma quanta vita c'hai, bro? Bravo! No, l'ho ucciso! Ma mi posso muovere mentre lo faccio? Vai! Ma quanta distanza c'ho? Bella! Vai, vai! Oh, ma sarai morto! Ah! Siamo convalidati! Perché... Per uscire da qua, che dobbiamo fare? Vabbè, ma è fighissimo sto potere qua! Cioè, possiamo... Ah, è qua! Mmm, godo! Ah, ma sono tutti morti! Baron! Eh, vedi, se questo qua lo missavamo... ...era un bel potere! Questo è un... ...signor potere! Ah! Oh, mi era partito il modello per un secondo! Ok! Fatto! Easy! Ok, vedi? Non capivo come arrivare in questo posto qua! Ah! Stai giù! Chi mi ha spato? Là, lui! Ciao! Dove sei? No! Sono diventato anche più... Tieni! 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 No! Da! Ah! No! Fai vedere se funziona Vai amico Oh c'ho zero di vita Via Dai dove è andata Non ci voglio credere Hola Che fatica Ok Ok Ce l'avevo bustata comunque eh il tizio Ok chissà dove diavolo dobbiamo andare adesso Ah no siamo qua al cervello Ok ok so dove siamo Quindi noi si va di qua adesso E da qua si può salire di sopra Ok Extensory Sto andando da tutte le parti possibili Oh cos'è Ma che ce frega Noi andiamo dove vogliamo Ok Alcuni di voi erano curiosi su queste vasche Ho pensato va bene Abbiamo portato queste vasche Per testare la registrazione del dottor Tokui Va bene Ma qua è tutto bloccato no Ok Dimmi un po' dottor Tokui Cittadino giapponese Ha prodotto una serie di registrazioni Di terapie distrazionali No abbiamo trovato incidenti nel suo passato Tuttavia gli agenti hanno testimonato un evento presunto Mentre ascoltavano il dottor Tokui Ah Un altro bello scoppiato Ho capito Oh Prima di tutto Tipo le missioni Ma che dobbiamo fare Ok Qui siamo dalla parte completamente opposta Ah Ma perché io finisco in sti posti Ma che sono sti siruri Oh Ma quel coso che cosa mi serve Ma che Ma va E come faccio a raggiungerlo Ah Ah è solo del Del grande loot Cosa fa questo Danni contro la corazza Degli nemici Più 74% Ah Scusami Beh Ma questo era solo un posto per Ciucciare Insomma Va bene L'abbiamo ciucciato Va bene Adesso mi sa che dobbiamo tornare indietro Ma più o meno tutto l'abbiamo Tranne qua Aspetta Aspetta Che qua si ciuccia tutto Via Dove siamo Ah Riproduzione Ma è dove eravamo prima No Ma che giro abbiamo fatto Qua è dove avevamo contenuto Il bro Eh sì Dove avevamo contenuto il bro Siamo tornati indietro Ma va Quello che avevamo Rinchiuso in gabbia Lo posso riaprire Non penso Ma che giro strano abbiamo fatto Ma com'è possibile Che io sia qui Ma Ma questo non l'avevamo visto Vabbè è molto figo no che l'edificio sia reale lo vedi Ho visto che la mappa è orribile Cioè io spero che facciano un remake di sto gioco Solo per rifare la mappa Ma che è sto ratto qua Ma vedi questo qua non l'avevo mica visto Ma pensa te E siamo tornati qui E si salva subito E si usa subito Grandi abilità Ma abbiamo ancora delle abilità da sblocco questo qua Quando viene annullato lo scudo scaglia i detriti contro i nemici circostanti Subito E niente Abbiamo solo due punti abilità possiamo aumentare un po' la vita che non sarebbe male Lanci nemici leggeri? Damn Si hai ragione Reserit che però in alcuni punti potrebbe stratificare meglio la mappa Cioè farti capire almeno su che piano tu sia Perché alcune cose sono al primo piano Alcune cose al secondo Alcune cose al terzo Poi ci sta Che tu debba imparare la mappa Capire Perché comunque stai girando un grande palazzo Che cambia Cioè E' un personaggio Del gioco proprio La old house E questo è figo secondo me Però Dai Quanti punti abilità ho io? Ah ne ho uno Eh me lo do in testa Tre Tre Due Due Ah Ah ma noi Cosa dobbiamo fare qua? Uccidi l'incurso nel settore manutenzione Il settore manutenzione Non sono nel settore manutenzione Vabbè Creazioni astrali Posso ciucciare roba? Li posso potenziare? No Posso potenziare questo? Mi conviene? Io potenzio Oh io potenzio Boom Non so perché L'ho potenziato Ma questi qua le ho già Le ho già fatte no? E niente Crea una moda arma casuale primario Crea una moda personale casuale primario Posso farlo Posso farlo A livello 4 Oh Oh recupero salute più 42% Godo Aspetta Questo cosa fa? Salute più 30% Recupero salute per Gioco come? Oh Gioco la così va Ah Oh lì Oh è rotto eh No No Hai rotto Madonna Madonna Ah ci sei anche tu Dai Vai amico Eh certo Eh certo Ancora 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 Basta C'è ancora gente? Eh Qualcuno è stato shottato Ma è tornato umano Ma Più o meno Vabbè fammi ciucciare tutto Che Va bene C'è tipo adesso Ma dove diavolo siamo? Ma? Scoppiato Ah Eh esattamente dove eravamo prima Avevamo fatto tutto il giro E infatti noi spunteremo di nuovo qua Esatto E qua prendiamo l'ascensore Is Worth Molto worth Ogni tanto mi sbarella Se mi giro troppo Mi sbarella il personaggio Devo Ricordarmi Oh Buongiorno Sono fatto un bel giretto Fammi salvare Ma? Ok Signora Sono Niente Ok Adesso possiamo Andare avanti Ah lì Sì L'abbiamo appena visto Qua c'è lo stato? Lei comunque è maratoneta vera Non la smette mai di correre Sì Ok Ok Di qua? Sì Ehi Di tanto si imballa proprio Che bel posto Chi ha costruito sto posto è veramente maniaco Sì 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 Bella la luce comunque Che non c'è Dov'è? Dov'è? Sì 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 Può venire qua Perché c'è il goloso loot Bravo Ah Una mod arma Golosa Guardala qua Si mette subito Ma come si faccio a sbloccare Più mod Per Per le armi Devo potenziarle Come devo fare? Così sparo 5 papagni alla volta Godo Non so cosa ho preso Ma va bene Ah Perché non me la fai prendere? Ah Vabbè Su Su No ho sbagliato 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 Scusi È giusto Allora Eh è così No gli enigmi Ecco Ma scusami È giusto No Scusami Non è così Eccoci qua È il logo Del Gamecube Del Gamecube Un po' ci assomigliava Effettivamente Ah Tesoro Sono a casa Sono a casa Ciao Ciao Sì aspetta Sì aspetta Che non scappo Vediamo un po' I prismi di roccia Qua era la roba Che va appena prima La lancia astrale Ah no Questo l'avevamo visto Ok Lì c'è un'altra roba Che però è bloccata Che cosa vuoi che possa andare storto Ah Guarda lì che ci sono delle robe Ha notato come sono diminuiti gli spec Da quando utilizza il suo alter ego anime E ciò significa che molti erano qui per la sua ammenenza Sperando che Apriessero gli fans Io penso che molta gente sia andata via Perché sto facendo dei contenuti normali Tipo Dei giochi Single player con della storia Piuttosto che parlare di cazzate O di Giochi delle palle Credo che sia più quello che altro Cioè che Ho provato a portare dei contenuti più umani Tipo anche le live musicali Live Tipo quella di ieri Di musica molto bella Sì ho capito Non lo so Tu come la vedi Moondog Se mi fai questa domanda Cioè se mi parli di questa cosa Mai ti sei dato una risposta Ah Ok Quadrato Ah qua c'è la soluzione Bisogna invertire Ok Ah uno Viva Ah devo inserirle qua dentro Di sicuro Quante sono? Quattro Una Due Tre E la quarta sarà di sicuro di sopra Quest'anno di base manco sempre Perché ho lezione a quest'ora Mi dispiace Maggi Però ti capisco Se hai lezione È lezione Sono cinque Ah sì Ne abbiamo prese quattro Mi sa E beh ragazzi Ma ci sta eh Ci sta tutto Che ognuno Abba il proprio impegno Che uno sia interessato A quello che uno Sta facendo C'è sempre la speranza Che ci sia un Anche gente Che magari È interessata E che possa venire No Cioè Comunque l'ho detto È questo che voglio fare Al momento Ah Questo che numero è? Il quattro Eh allora Allora Qua devo mettere Nell'uno Devo mettere Quello lì tutto fottuto Quello è sicuro Cominciamo dall'uno Va Magari streamo la sua live Sulla Lim E la faccio passare Per l'educazione civica Anche Quando parliamo di notizie Gossip in flame Ah la 1 è questa E siamo sicuri Qua bisogna invertirla E quindi bisogna mettere Il L'esagono pieno Al centro Al 2 Dov'è il 2 Dov'è il 2? L'esagono pieno Al centro Al 2 Questo E bisogna mettere Quello solo di un punto Al 3 Che è questo Ok Il 4 è di sopra E il 4 E il 4 è Quello lì insomma Va bene Si studiano i mostri Della chat Questo E il 5 E il 5 per forza È quello che avanza No? 5 questo? Si E ne è rimasto 1 Eh Dovrebbe essere Corretto No? Riproviamo? Ma? Ma? Mi ha trollato Mi ha trollato Ma che cosa ho sbagliato Scusami Ma scusami Mi sono attenuto A quello che c'è scritto qui La 1 è lì Il 4 è lì Ah no Aspetta Feedback loop Qua lo gira Quindi il 4 E il 5 Vanno spostati Me l'ha fatta Attenzione Aspetta Tranquilli Ci penso anch'io Che sei probabilmente L'ordine Adesso Dovrebbe andare Ah ecco Eeeh Me l'aveva fatta Ma che arma C'ha in mano La tizia Ma che è Fall out È l'arma di fall out Ragazzi Ma Ma È scomparsa La prisma è sbagliata I prototipi di Darlene Hanno molti problemi Abbiamo bisogno di un nuovo plan Posso parlarti Eeeh Brava Oh mi devi dire le robe No Prima parlare Poi fare Oh ma sei tu la direttrice O chi Ma va Ma lasciali morire tutti Oh abbiamo il livello 4 Emily Pope Ha setto una base In exekutiva Una volta che ho la presenza Te metterò Certo Prendrò Inmediatamente E guardare un occhio per Darlene Trovare lui potrebbe essere la chiesa per stoppire il riso. C'è solo una grande scala di HRA. È ora. Siamo arrivati a essere accettati a un diverso tipo di resonanza. Hostile, virale, invasiva. Ah. Sì, è quello che gli amplificatori di resonanza di Hedron. Per ottenere la protezione che la Hedron può aiutare. E per mantenermi da essere usciti. Cinema, uh! Cava di estrazione. Cava di estrazione. Ah. Abbiamo... Dovremmo fare backtracking e aprire tutte le stanze che adesso possiamo con... Con le chiavi di accesso nuove. Ciao. Qua abbiamo fatto tutto, tranne il labirinto del posa cenere. Che non sappiamo assolutamente come risolvere. Ma per... Per... Scusate. Ma per il resto ci siamo. Dai, apri. Fatti i fatti tuoi, oh. Ah, ci riporta qui. Oh, lì! Ci riporta esattamente qui. Ah, io prima di procedere... Andrei a riparlare alla tizia. Per dirle qualcosa. Magari ci dice qualcosa. E... Oh. E là sotto... E là sotto io non sono ancora riuscito a capire. L'avevamo sbloccato lì sotto. Non mi ricordo più. Che c'era... C'era un gran casino lì sotto. Ma non mi ricordo se l'avevamo fatto oppure no. Ricordo che avevamo... C'è il... Cos'è che è stato? L'ultima volta avevamo... Smadonnato parecchio lì. Vabbè. Sai che c'è? Fammi prendere l'ascensore. Fammi scappare da sta gabbia di matti. Immediatamente. Che abbiamo pure golose abilità. Siamo al settore ricerca. Settore esecutivo. Settore manutenzione. Corridoio. Settore di contenimento. Dovevamo andare nell'esecutivo prima. A parlare con la tizia. Dai qua potevi farmi fare la scena dell'ascensore. Invece del caricamento. Però va bene. E devo capire come aggiungere mod alle armi. Dai vediamo se c'è qualcosa da dirci. Che è sta roba? Ma non l'avevamo sentito sta roba qua. C'è un box? Quando la città finisce. Ho la giubbocca in una locazione sicura. Nel settore esecutivo. E non dovrebbe mai essere accessibile. Una locazione di sicurezza. In primo momento. La nuova locazione di sicurezza. In proximità a un'area di alto traffico. In evitare l'utilizzo. Aggiungendo le team di espedizione di accesso. Quando necessitato. Vieni per alcuni dettagli. Allora prima di tutto. Boom. Oh 5 punti di abilità. Io aumenterei ancora un po' la vita. Prima di tutto. Ho l'energia. Anche l'energia ogni tanto mi serve. Danni da raffica da scudo. Ti dico. Questo si carino. Ma secondo me le cose principali sono. Avere più vita. Più energia. E il lancio. Ne ho 5. 3 più 2 5. Io devi fare così. Che almeno. Non ci sciottano. Eee. Danni da lancio. Più 50%. Eheh. Caspita. Poi. Gli abiti? Non c'ho abiti. Dove sono gli abiti? Dove sono gli abiti? Oh. Cazzo. Cazzo. Non posso far niente. No. Non me ne frega niente. Io vorrei capire. Io vorrei capire. Come si fa. A potenziare sta roba qua. Vabbè. Facci parlare con la tizia va? Ehi. Ehi. Oh. Dimmi un po'. Ma le mi hanno fatte tutte? Ah. Non ci dice nulla di nuovo. Peccato. Dottor Darlene ha molti. All'interno del bureau. Potrebbe essere scoperto in alcun di loro. Certo. Ma non ho accesso a molti di loro. Si. Dai. Non si possono schippare sti dialoghi. Non tutti. No. Alcuni hanno un materiale volatile. Ridicoloso. Cioè. Questo tutto è un materiale volatile. Potremmo pensare una più convinzione. Cioè. Come posso lavorare senza accesso a tutti i dati possibili? Ah. Dai. Via. Utile come una... Un pugno in un occhio. Guarda. Dai. Su. Su. Qua di sicuro... Secondo me c'erano delle porte che potevi aprire. Ma di sicuro non voglio mettermi adesso a fare backtracking. Voglio andare avanti. Dove però? Settore ricerche? No. E dove siamo... E dove eravamo? Settore di contenimento... Cos'è? Corridoio d'accesso o settore manutenzione? Ma il settore manutenzione. Adesso abbiamo anche dei pass. Settore manutenzione secondo me non siamo ancora in grado di aprirlo invece. Perché adesso siamo al quattro, secondo me c'è il livello cinque o sei per aprirlo. No. 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 Ah. Va bene, va bene. Come ti fai con me. Sì, noi stiamo parlando col grande antico. Allora. Vediamo se stavolta riusciremo... ...ad accedere a queste due aree tutte blurrate. Vediamo un po'. Buongiorno. Questa volta... Questo l'avevamo fatto. Power plant... Black rock processing. Ah, questa volta ci ha aperto direttamente la parte. Ah. Me ne ricordo sta zona. E beccati sta papagna. L'abbiamo annichilito. E beccati sta papagna. Vieni. Ah, quello lì dov'è? Vieni, vieni. Dove sta? Chi... Oh, chi mi spara? Oh. 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 Dove sei? Dove sei? Come faccio a prenderti? Scusami. Dov'è la... Ah, da qua sopra. Guarda te che giro uno deve fare. Eh. Abbiamo finito di giocare? Eh, no. Dai. Era stata... Guarda come corre. Guarda come corre. Guarda come corre il ratto. Eh, ma? Non corri più. Ce n'è ancora, no? Oddio. Oddio. Basta. Eccoci qua. Ciao, Error. Va bene, Error. Tu sei... Luce? Adesso possiamo aprirla questa parte, vero? Sì. Sì. Hola. Chissà. Chissà. Ah. Eh, dai. Eh. Ok. C'è da fare roba. Enigmi. Partiamo dal sotto. Eccoci qua. Sistematici. Mod arma suprema. Oh, fammi vedere subito la mod arma suprema. Rinculo meno 25%. Eh, ma non su quest'arma, neanche su questa. Oddio, pure questo, però... Credo che questo sia meglio. Bisogna metterlo sull'altra arma, questa. Tanto mi sono dimenticato di cambiare arma. Preferisco l'altra arma normale, base di questa. Eccoci qua. Che è sto casino? Che è sto casino? Aspetta. Oh. Era qua, no? Siamo diventati gli X-Men. Tec. Eccoci qua. In un posto... Veramente, veramente, veramente. Ma che è sta luce, oh? Ah? Ah, ma siamo... Nooo. Siamo all'hotel California. Sono pure le frecce che mi dicono, bro, dove stai andando? Il posto è da tutt'altra parte. Ah. Cavolo. Dobbiamo andare all'hotel California. e... Andiamo. Chi ha spent... Chi ha spento la luce qua? Ok, hop. Eccoci qua, l'hotel California. Noi possiamo accedere solo alla pietra... questa qua. Ed è chiusa. Dobbiamo trovare la chiave da qualche parte. Se... Se funziona come le altre volte... C'è una roba strana. Suonando il campanello apriva le porte. Cioè, dovrebbe essere... Man mano dovrebbe aprire. Super inquietante. L'hotel California. Però la bandiera degli Stati Uniti c'è sempre. O lì. Eccoci qua. C'è un bel niente. Ok. Sala 2. Ok. C'è un po' di tutto qua, eh. Ok. Perché abbiamo riordinato la stanza? C'è qualcosa... Che non mi torna. Cioè, la devo sistemare... In un determinato modo? Forse come è fatta questa? Ok. Ah, ho capito. Quindi... Devo togliere la sedia. Ok. Per me è così, no? Il quadro, la radio... La sedia... Deve essere così, no? La radio, il quadro... Sì. E si è aperta... La 3. Grandi enigmi. Perché sono tutte fatte uguali queste stanze. Manz. Vabbè. E noi possiamo entrare solo nella stanza con la piramide nera. Ah. No. 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 Ok. Si è collegato il ponte. Pronto. Eccoci qua. Eccoci qua. Ponte collegato. Qua? Si scende? Ma mi spacco? Mi spacco? Ok. Non era questa la direzione giusta? Forse? No, era qua. Eccoci qua. Eccoci, 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 eccoci. Che infatti la volta scorsa non si poteva andare. C'erano altri ingressi però lì. E dall'altra parte chissà che cosa diavolo c'è allora. Eccoci qua. Conforti. Ok. Si. Leggiamo. Lore. Lore. Io prima tutta la lore. Va. L'Atlante è un'espressione fisica creata dalla Oldest House. Il suo fine e la sua funzione sono tuttora sconosciuti. La forma e la dimensione dell'Atlante sembrano indicare un fine più esplicito rispetto alle consuete pareti, pavimenti o alterazioni della Oldest House. L'Atlante cambia forma, ma resiste all'osservazione quando lo fa. Secondo la teoria precedente, tale cambiamento rispondeva alle alterazioni dell'edificio e l'Atlante era una della stessa. Qua? Telefono? Telefono amico? Pronto? Sì. Sì. Sono le sce chimiche Comunque è tutto cinema ragazzi è fighissimo Ho usato ogni metodo conosciuto per analizzare i dati E' spostato a me Ho visto cose e ho avuto la compuizione Non è solo i dati, è la protezione E' benigno Sì ma tu non ce l'hai un grande antico nella testa Ah è il messaggio che avevamo sentito prima allora Bel maglione comunque Ok 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 Che mica tanto Non voglio essere ripreso Ok E' certo E' certo Peccato che non puoi mettere nella mappa Dei segnalibri Tipo qua ci sarà della roba di sicuro Tipo da far tutto backtracking Oh Cos'è ricerca Vai a parapsicologia Ma è una missione a tempo Ma come vai a parapsicologia Devo tornare indietro Ma come devo tornare indietro Ma che vuol dire E' una missione a tempo Corri Ha tutto sto casino per arrivare qua e poi Voglio provare a farla Sono un'extra Che non l'ho mai fatta Fammi vedere Soprattutto Come faccio ad andarmela adesso Dov'è l'elevator? Ecco qua Andiamo a vedere Abbiamo 20 minuti Fammi vedere Il settore ricerca è vero? Qua Per capire Ma è una cosa in più Non è che mi cambia il gioco Se le faccio o non le faccio Sono tipo delle cose Per allungare il brodo Ah Come faccio ad arrivare a parapsicologia? Di qua? Siamo nel laboratorio Buono Sto andando da tutt'altra parte Da dove dovrei andare Cosa è più difficile E' trovare il posto Eh fatti Dovremmo passare di qua Ah ti dà Achievement Ti dà Drop Ciao Frizzy Dai non ho tempo Madonna Madonna Dai Sparategli Dai Madonna Oh Finiti? Non lo so C'è ancora la musica del terrore Eccola qua la paperella E come faccio ad entrare qua dentro Vabbè non è il momento di chiederselo questo Come si fa uscire da qua Io la tiro dritta Parapsicologia Dobbiamo andare Utile Utilissime le indicazioni Parapsicologia Parapsicologia di qua Parapsicologia di qua Ahia Oh ma quante me ne tira Non mi ha tirato i 2000 Ma com'è possibile Parapsicologia Parapsicologia Devo andare all'uno No? Eh sì Per forza Devo seguire i cartelli Per andare a parapsicologia Eccoci qua Eeeh Qua Dietro Qua Dove dobbiamo andare? Dritti Qua E' qua che dobbiamo andare no? Vediamo se ci riusciamo Chi mi spara? A chi dobbiamo sparare? Oh Ok Sono là sopra No Ho ucciso il mio Ok Oh Mi ha fatto no? No Oh Ehi 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 Ah non posso Impossessarmi di lui? E allora muori Ah Che altro c'è? Dove? 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 Ah Eccolo lì sopra Ho perso Tutta l'energia No No Hola No 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 Ho sbagliato l'arma Ok L'abbiamo fatto no? Oh Quanti sono E mo' Eh ma quanti durano Ma quanto dura sta roba qua Ebbene Ma non finisce mai? Finito Finito E cosa mi ha dato? Niente C'è tutto sto Sto casino per? Per niente Sì ci sono gli headshot qua Anzi Fai anche danno maggiorato Con gli headshot Boh C'è qualcosa di sopra Vabbè easy Cioè una volta Ma c'è una roba lì Aspetta ma 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 che stai a dire? Eh sì dovrei Però tipo Io mi faccio Tutto prendere E quindi E quindi Butto tutto In cacciara Spostamento rapido Ah Ah ti fa vedere Dove posso andare Ah ma allora ci sono Dei Passaggi veloci Ok Esecutivo Ah Manutenzione Ovviamente io Dove posso andare? Ventilazione Ingresso Pompe Convertitori Sala di controllo Centrale Ah le varie zone C'è il contenimento Dove però non potevo andare Da nessuna parte Ah No in realtà no Ah noi dobbiamo andare In manutenzione In manutenzione però qua Nel corridoio d'accesso Dove ovviamente Non c'è nulla Qui vanno Nell'esecutivo Centrale E poi prendo Il Prendo l'ascensore Comodo così Is E si va nel settore Manutenzione Tutto facile Dai Vabbè Avevamo bisogno Di capire bene Prima Come era strutturato L'edificio Poi Si vede Poi si vede Ok Ok Blackrock No Eccoci qua Vai amico mio Mamma mia Un cecchino Oddio Oddio Vai grande Ah e poi esplode Così Esplode il cervello Letteralmente E poi si andava di qua Easy Tutto facile Ma perché sono io Molto bravo Frizi Tutto qua No No ma perché all'inizio Non ti viene Ma in realtà È molto più action Di quanto non possa sembrare Ok Ecco adesso si Ah qua non ci possiamo andare Perché il livello è troppo alto Ok Vedi Cosa è successo Nulla Mamma mia Game changer Qua non ci posso andare Allora si va di qua Oddio Ma sai che potremmo andare Oh Di qua Mamma mia Che game changer Tu luglio Non si fa sfuggire Un loot Buongiorno Ah Gente che spara Eh sì Gente che spara forte Anche Shortcut Sì 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 Aspetta Mamma mia Eccoci qua Ah Così Mi arriva una papagna Eccoci qua Andatemi i prodi Oh Non so cosa Holy shit Boom Clown Clown fiesta Vai Combatti per noi Ma che è sto casino Ah ma c'è il fantasma formaggino Dov'è No no mi serve Dov'è Guarda che non muore mai C'è altro C'è altro Penso No Che Chi devo sparare C'è più nessuno Ma dove devo andare Ma Ma Ah ma sono lì sopra Aspetta che arrivo Ma Ok Abbiamo salvato qualcuno Penso di no Hola Dove Di sopra Aspetta Peccato si è passato un po' in sordine Il gioco tra ray tracing e tutto Girava una merda Ora è giocabile anche su PS5 Hai ragione Però io lo sto giocando adesso E lo sto apprezzando molto anche graficamente Sai C'è Onestissimo Uno Il grande eroe Almeno uno l'abbiamo salvato Dai L'importante è quello Almeno uno ogni volta lo salviamo Sì su PS4 Non posso Veramente pensare Che si possa giocare a questo titolo No joke Dove essere veramente orribile Senza tutti gli effetti Eccetera La storia è dietro Poi collegandosi anche con Alan Wake Perché È giato nello stesso mondo È molto figo Sì ma io come faccio ad arrivare lì? Eh Come faccio? È qua Ah sì Fai vedere se c'è roba qua Ah Fammelo vedere da qua Va che preferisco Ah sì Quello che l'abbiamo già usato Sì all'hotel California Nell'ultimo DLC di Alan Wake Nell'ultimo DLC di Alan Wake c'è un teaser per Control 2 E Uscirà un Control 2 Eh sarà figo Sarà figo Sarà figo Quando dopo Tott'anni Lo comprerò Per due euro E lo giocherò Numero Numero all'interno del buro Inoltre i due paesi Si è diventavano In tune con l'altro L'hotel California Ho capito Ah vedi che c'era un po' di loot Aspetta che c'era del Oh Risorse Collezionabili Cos'è multimedia? Abbiamo visto tutto Test Ah no Questo è quello della paperella Ma tra l'altro abbiamo preso la paperella Adesso che ci penso No Non credo di avere potenziamenti da fare Avevamo già potenziato tutto prima Non abbiamo più niente E' che mi piacerebbe capire Come diavolo si aumenti La capacità di Di avere mod Le armi Che non ho ancora capito Dove si sblocchino queste cose qua Che è un po' una gabola Ah ma è lo stesso tizio di prima Vediamo un po' Oh ma tu Eh beh Ancora peggio Eh beh E' normale Ah Boss fight Beh Quei tizi appesi Eh che culo Beh ma Siamo superman Lei è tutta distrutta Tra l'altro Però si vede che fa sport Ok Ok Posso parlarti ancora? No Ok Io direi che Può andare bene così Oh fammi ciucciare qua Fammi andare a salvare sotto Correzionabili Correzionabili Eh qua tutta l'or Ma ce n'è una marea di l'or Tra l'altro Hai notato le recenti tensioni Tra Trance e Darling Attenzione eh E' stato proprio lui l'inizio Ad approvare queste ricerche Su Edron Ma dopo Darling Ha svegliato Furioso Ah Interessante C'è della lore Sivan Ma queste cose ti danno molto più Ti fanno apprezzare molto di più Come Come è strutturato il gioco Pubblicità palesa le sigarette Queste sono le mappe La sirena La sirena Ah Ah Enchanting Ah Cosa stanno belli cucinati Fammi tornare sotto va Che almeno salviamo Vediamo se abbiamo almeno i materiali Perché abbiamo fatto fuori un po' di stronze Adesso Dovremmo avere un po' di materiali Magari per potenziare Creazioni astrali no? Sì No Vabbè Ci mancano i materiali Dai Per uno Una memoria della cassa Della casa Che mi piacerebbe potenziare un po' Sti tizi Soprattutto l'arma Cioè secondo me l'arma i migliori Sono Il pompa Per forza Che ovviamente col cavolo che ti fanno potenziare E Probabilmente la pistola base Secondo me è figa Anche rispetto al Al cecchino Secondo me è ancora meglio C'è più d'utile Sì infatti È però I materiali I materiali impossibili da ottenere Eppure sto ciucciando Qualsiasi cosa Qua non mi serve niente Vabbè A posto così Io direi che Però oggi va bene così Arregà